Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IGVOLT è il sito che va per voi e con il codice FUTITALIACHANNEL avrete anche un 6% di scopo Link in descrizione Benvenuti ragazzi a quello di FUTITALIACHANNEL e sono qui finalmente per presentarvi la finale del nostro EuroBattle siamo qui contro Itty che ha battuto in semifinale Mattus con la sua Cermania con Marione Gomez lì davanti sarà veramente pericoloso Mattus tra l'altro mi ha detto di stare attento al centro avanti che ha fatto veramente tanti gol in semifinale è pronto per la finale non ci siamo scaldati più di tanto però questa è la rosa che utilizzeremo l'avete già vista abbiamo il nostro Nani insomma tutto pronto andiamo ad invitare Ippi ok ci siamo qui la sua squadra tedesca 4 giocatori argento però dei buoni giocatori Timo Werner soprattutto Mare Gomez stai davanti UTTOTS in difesa veramente un muro con bua Teng difesa veramente tosta attenzione al cross oddio no no è tornata proprio lì gli è rimpallata proprio lì 1-0 Mario Gomez che sfiga ragazzi questo account ha una sfiga voi non avete idea vai lì per Nani buono Nani dai Nani entra dentro Nani vai Nani prova la dietro giocare a Dren Silva a Dren Silva si libera di un avversario a Dren Silva con il tiro fuori buono lì per Nani Nani a piazzarla Nani deviata perché perché nessuno lo segue ma com'è possibile ho fatto due tiri due gol è assurdo veramente assurdo 2-0 come ma come poi buono mutigno vai in mezzo non puoi sbagliare ma come fai a sbagliare dai su dai Nani a giro ha messo anche la no dai vai non ci credo non ci credo e finisce il mio tempo sul mio contropiede che bello ragazzi una sfiga per adesso vedete lui ha fatto tre tiri due gol io sette tiri zero gol come sempre ragazzi buono vai tiraci non puoi sbagliare 1-2-1 gol di più sia il 49esimo siamo in rimonta vai così vai Medeiros la betta trap no dai ma non ci credo no non ci credo ma che partita è ma che rigore è dai eh centrale certo certo vai col filtrante lì buono per Medeiros vai Medeiros ho sbagliato ho sbagliato ma va bene vai Medeiros si così 3-2 di nuovo sotto di 1 ancora 12 minuti più recupero ce la possiamo fare buono Danny ma cross ma che aspetti 3-2 non c'è stato verso veramente sono tempo dei mongospastichi vince lui con una tripletta di Mario Gomez uno sul rigore veramente regalato dall'arbitro che io non cazzo insomma vabbè una partita che avete visto com'è andata purtroppo non siamo i campioni di questo battle però ci rifaremo magari in un prossimo torneo vi lascio con le classiche statistiche con io che faccio il doppio dei tiri il doppio dei tiri importa però comunque perdo passate comunque dal canale di hippie perché vedete la sua versione dei fatti diciamo la sua partita vista dalla sua visuale io spero che questo torneo vi sia piaciuto vi dite a lasciare un like arriviamo a 50 mi piace anche per questo video vi dite a iscrivervi al canale se ancora vi hai fatto e vi ricordo come sempre be yourself stay ignorant vi dite a iscrivervi al canale vi dite a iscrivervi al canale vi dite a iscrivervi al canale